Una performer che io personalmente amo molto anche perché ci conosciamo molto bene anche all'esterno, anche dietro le quinto, mettiamola così. Ci conosciamo d'anni e per me è sempre un piacere poterla presentare perché è veramente, secondo me, un fenomeno nella sua specialità. Quindi, signore e signori, la lascio direttamente a voi, ecco a voi, con la sua fan dance. Vanille, let's hear! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!